Ben ritrovati in nuova puntata di Cronache Trevigiane e tanti argomenti, tanti personaggi da raccontare ma cominciamo dagli industriali Padovani e Trevigiani con un nuovo progetto che guarda al futuro dal titolo eloquente Cappannoni On-Off il servizio. Padova e Treviso sempre più unite grazie al protocollo firmato tra Assi Industria Veneto Centro le rispettive province e Camere di Commercio e il Consorzio Bimpiave per l'avvio di un nuovo progetto dal titolo Cappannoni On-Off, rigenerare il territorio dalle aree produttive. È un progetto importante che permetterà di avere una migliore pianificazione urbanistica ci permetterà di capire laddove ci sono delle carenze anche in termini infrastrutturali ci permetterà di vedere invece laddove effettivamente ci sono delle situazioni che non hanno più senso visto che in questi ultimi 60 anni abbiamo anche lasciato sul territorio diverse cicatrici che noi pensiamo che vadano oggi risanate. Un progetto a lungo termine che vuole originare la crescita disordinata lasciati dagli insediamenti produttivi vuole pensare ad una gestione del territorio trasparente e condivisa. Concretamente si tratta di censire 32.000 Cappannoni per una superficie di 14.000 ettri raccogliendo, omogenizzando e mettendo a fattore comune le banche date di Entica, TASO ma anche Utilities per creare un unico database condiviso e di facile lettura. Dati che verranno raccolti in un atlante telematico che diventerà strumento di servizio operativo e di supporto strategico. Progetto bellissimo perché consentirà la possibilità di andare a recuperare del patrimonio laddove sia compatibile con lo sviluppo dell'impresa piuttosto che spostarlo, quindi con l'utilizzo di crediti edilizi o altri strumenti e dar la possibilità alle imprese di sviluppare il proprio business nella provincia di Treviso, nel Veneto sicuramente non può che vedersi favorevoli. La logica dei campanili ormai nel territorio sta un po' rifacendosi questo è un strumento fondamentale perché mette insieme le informazioni importanti di due province che renderà la possibilità di pianificare processi di gestione economico-finanziaria. Una policy trasparente e condivisa tra pubblico e privato che faccia cultura urbanistica, progettuale e amministrativa. Una policy che non vedremo concretizzata prima di 10 o 20 anni ma che ambisce a cambiare in meglio il paesaggio industriale e urbano dei nostri territori. Mette il pubblico e il privato ma mette il privato assieme perché il pubblico che stiamo parlando è la Camera di Commercio governata dagli imprenditori quindi sinergia, economia di scala e progettualità. Questo è il compito della Camera, questo è il compito delle associazioni. Guidare un percorso di crescita e di recupero del territorio è importante e noi ci siamo. Pensiamo non a domani, domani è troppo breve, non è lungimirante dobbiamo pensare a come vogliamo il nostro territorio nel prossimo decennio. Firmatario del protocollo è anche il consorzio Bimpiave che già da tempo lavora nella stessa direzione. È stato bello quando ci è stato chiesto da Assindustria una collaborazione essere riusciti a rispondere immediatamente aver potuto dire siamo pronti, ci siamo, vogliamo essere partner attivi in questo progetto.